Ciao, benvenuti e bentornati in un nuovo video! Oggi sono qui per far con voi i cannoli siciliani, una delizia e sicuramente il dolce tipico siciliano. Quindi, se vi può interessare, iniziamo subito! Per la farcitura ci servirà ricotta di pecora, zucchero, ovviamente la sacca a poche, io uso queste usa e getta, mentre per la guarnizione, lo zucchero al velo, le ciliegine, le codette di cioccolato e la cannella. Iniziamo rompendo la ricotta con un cucchiaio di legno. Aggiungiamo lo zucchero. Io con le dosi vado un po' a occhio, in realtà non guardo mai la bilancia. Adesso con uno sbattitore, iniziando con la velocità più bassa, iniziamo ad algamare il tutto. Quando vedremo che sarà sempre più cremoso, potremmo aumentare la velocità. Riempiamo adesso la nostra sacca a poche e iniziamo a farcire le nostre scorze di cannolo. Nella parte della crema visibile mettiamo una piccola spolverata di cannella e le nostre ciliegine. Ripetiamo la stessa cosa anche dagli altri, però possiamo alternarci con delle codette di cioccolato invece che... Terminiamo il tutto con una bella spolverata di zucchero al velo. E i nostri cannoli sono pronti da servire! Bene, il video è terminato. Questo è il cannolo pronto, pronto da gustare e quindi se la ricetta vi è piaciuta e magari vi possono interessare altre ricette tipiche siciliane, mettete un like al video. Iscrivetevi al canale se non lo avete fatto e attivate la campanella per ricevere notifiche.